maratona del 4 novembre 2020 abbiamo un libro di un inviato veramente speciale un reportage la guerra nelle montagne di rudy archipling brano che vi leggerò si intitola il fronte trentino non bisogna essere un esperto per cogliere le differenze tra i vari fronti italiani si notano già da lontano dietro le linee osservando le truppe riposo olandi rivieni di mezzi sulle strade anche alle spalle della ridente asolo nella quale pippa la giovane protagonista del dramma di browning si sveglia una mattina di 76 anni or sono e saluta con gioia il mondo si percepisce una tensione crescente nell'aria lo confermò con franchezza anche l'ufficiale descrivendo il fronte sulla cartina geografica vedete questo punto ovest delle dolomiti dove il confine italiano si spinge verso sud con un'ansa a forma di v ecco quello è il trentino i volontari garibaldini detenevano il pieno controllo durante la terza guerra di indipendenza a quei tempi la prussia era nostra alleata contro l'austria ma al momento più opportuno sottoscrisse il trattato di pace mi riferisco a quello del 1866 e l'italia fu costretta ad accettare i confini stabiliti dalle due potenze tutte le nostre frontiere sono pericolose merito di prusse e austria ma quella del trentino è la peggiore in assoluto l'alto piano sul quale stavamo salendo era avvolto nelle nebbie le montagne avevano lasciato il passo a rilievi tondeggianti di forma quasi simile a una botte che si innalzavano perpendicolari sopra aride vallate le strade erano tante di una nuova costruzione ma gli autocarri viaggiavano a velocità regolare e questo grazie alla presenza della solita coppia formata da un vecchio e da un ragazzo alle nostre spalle brugliere scozzesi rossi pianori solcati dalle trincee e butterati dalle granate una cozzaglia in colore e attraverso la nebbia quasi in forme di poggi comparivano e scomparivano la vista tra le proprie pieghe nascondevano truppe di soldati truppe sempre allerta e sui loro versanti si ripetevano a centinaia le linee dei trinceramenti scendemmo giù per un monte che era stato ridotto completamente a un cumulo di macerie e che tuttavia conservava ancora le tracce delle trincee che simili a rughe sulla fronte di un uomo ne avevano seguito le curve di livello una scanalatura stretta e poco profonda forse una condotta per l'acqua percorreva in linea verticale rilievo fino alla sommità intersecando perpendicolarmente le linee di posizioni sbiadite fu lì che i nostri soldati sostenero l'ultimo assalto degli austriaci prima di respingerli nella battaglia degli altipiani non è così che la chiamate i nemici impiegarono dieci giorni per scendere fino a mezza costa come vedete quella trincea fu scavata in linea diretta fin sulla cima del monte dopodiché i nostri uomini si arrampicarono e distrussero le forze austriache non fu difficile come sembra perché con questa strategia se il nemico in alto perde l'equilibrio ruzzola giù tra i vostri soldati se invece siete voi a mettere un piede in fallo ricadete indietro fra i vostri compagni e il prezzo pagato chiesi con un filo di voce fu altissimo e su quel monte al di là della forra ora non si vede perché c'è nebbia combattemmo per sette giorni consecutivi la maggior parte dei quali senza acqua gli austrici sono stati i primi a piazzare granate da 305 mm in fila e a farle brillare sui fianchi delle montagne per usarne i crateri come trincee questo stratagemma si è ormai diffuso su tutti i fronti ed è quasi diventato la prassi mano a vera seccatura l'ufficiale mi riportò alcuni episodi di quella lunga e cruenta battaglia nella quale l'esercito nemico credette per un istante di avere in pugno le pianure che si aprono a sud finché il generale cadorna non dimostrò loro il contrario personalmente non vorrei mai trovarmi nei panni di quegli austriaci con i bosch alle spalle e l'exercitus romanus di fronte quello trentino era il fronte più tranquillo dove la presenza militare era meno evidente le truppe erano stanziate nei grossi centri costruiti nel folto delle foreste dove la neve persisteva al bordo delle strade in mucchi sporchi ed ai fianchi incavati che con il disgelo andavano restituendo tutti i rifiuti e i resti celati dall'inverno grazie ad alcuni reparti ausiliari impegnati nello smaltimento non c'erano cattivi odori altre squadre invece riempivano celermente i buchi delle granate rimettendo in sesto le strade agli autocarri non piacciono le soste forzate in un altro paesino roccato sulla pietra non c'era anima viva tranne i cuochi dell'esercito e alcuni ingegneri dall'aria annoiata addetti alla manutenzione stradale il resto delle truppe si trovava sulle alture per piazzare far brillare le cariche esplosive oppure a valle in conche boschive che assomigliavano a parchi e dove i battaglioni simili a spettri si aggiravano nella nebbia dei pini quando arrivamo al limite estremo del monte come di consueto non trovamo nulla se non ampie distese erbose con le zolle rivoltate e una casa pericolante lo scheletro martoriato di quella che un tempo era stata un'abitazione di uomini in cui l'acqua piovana sgocciolava attraverso i fori del tetto da lassù lo sguardo spaziava sulle trincee nemiche scavate nei palli diversanti da cui tuonavano i camiononi austriaci non più svogliati questa volta ma impazienti lamentosi quasi assillanti dal nostro lato tutto tacque se vogliono qualcosa che vengano a prendersela disse l'ufficiale chissà che cosa non avrebbero dato quegli artiglieri per prendere posto sul nostro autocarro durante le ore successive mentre visitavamo un'altra linea di difesa mimetizzata tra le rocce ma forse a quest'ora gli austriaci l'hanno già scoperta la nebbia si stringeva intorno a noi insieme alle remote spalle dei monti da cui schiere di soldati comparivano di sfuggita per poi svelire nel nulla continuamo in erpicarci fino al punto in cui la nebbia si confondeva con le nuvole percorrendo una strada più ripida di tutte quelle praticate fino ad allora essa finiva in una galleria scavata nella roccia dove enormi pezzi d'artiglieria puntati in una data direzione pronti a far fuoco in un dato momento restavano in attesa avvolti nelle tenebre fate attenzione la strada svolta in modo piuttosto brusco la galleria dava su uno spiazzo all'aperto e sopra un salto di centinaia di piedi lungo una parete verticale di roccia striata dove cespugli d'erica in fiore crescevano qui e là in fondo la parete iniziava la montagna vera e propria che appariva non meno ripida parecchi metri più in basso si svasava verso l'esterno e digradava in una serie di pendii più dolci che scendevano con poggi e collinette per 1200 metri fino alle antiche esterminate pianure pedemontane il panorama settentrionale era nascosto dalla nebbia ma verso meridione si riuscivano intravedere il corso di ampi fiumi le ombre sottili degli acquedotti e i profili delle città quasi ammassate le une sulle altre il passato di una sola di esse valeva molto di più del futuro di tutte quelle nazioni incivili che davano fiato ai loro cannoni dietro ai rilievi antistanti che ci venivano mostrati dalle feritoie dell'osservatorio l'ufficiale terminò il racconto dei bombardamenti e delle battaglie che per anni si consumarono su quelle vette e quel puntino all'orizzonte a destra del piccolo tondeggiante sovrastato dalle nubi è una mina che abbiamo fatto saltare concluse lo sportello della feritoia si richiuse piano piano dietro una cortina di fiori d'erica in questa terra muta e aspra tutto si svolge in silenzio la nuova italia oltre all'immanesforzo richiesto da ogni singola fase del conflitto quello che continua a colpire l'osservatore sul fronte italiano è la sprezza delle condizioni in cui tutti operano dall'austerità spartana dell'ufficio del generale catorna che si potrebbe quasi credere un monastero un laboratorio medico al più umile dei mulattieri che bianco di polvere da capo a piedi ma senza una goccia di sudore in fronte arranca sugli arti sentieri montani dietro il suo animale e infine la vedetta solitaria che resta in agguato come una pantera stretta contro uno spuntone di roccia e immobile come una pietra non fosse per l'occhio vigile che appena si muove sotto la palpebra abbassata non c'è sfoggio né ostentazione né enfasi retorica e neppure per quel che è da vedere la volontà di mettere in luce soltanto il lato migliore della situazione guardate questo è il nostro lavoro sembrano sottintendere i soldati questi gli uomini i mezzi che impieghiamo a voi trarre le debite conclusioni nessuno ha fretta e si sente messo sotto pressione la figura dell'italiano iperattivo creata dall'immaginario bosch non si scorge da nessuna parte al contrario si nota un'organizzazione flessibile ed equilibrata al cui servizio tutti si prestano con fervi da abnegazione che risparmia e fa economia con la medesima oculatezza e lungimiranza con cui è disposta a spargere il sangue di 20.000 uomini per conquistare le posizioni necessarie tale sistema pur non essendo disumano né dittatoriale non pretende neppure di rivestirsi di sacralità opera come operano gli italiani o come un pugnale quando piano piano senza incontrare resistenze penetra fino al manico può darsi che il clima temperato e la vita all'aria aperta l'abitudine a una ferrea economia di risparmio e la zinvoltura nel mettere a repentaglio la propria vita a correre il gero per questioni di principio abbiano contribuito al suo sviluppo o forse le contingenze della guerra hanno risvegliato nel popolo italiano la tavico istinto all'organizzazione se si guarda nel complesso la portata dello sforzo bellico si propende per la prima ipotesi se invece si osservano i generali e i loro volti scavati dalla guerra che ricordano i cammei dei loro antenati che combatterono sotto leggi da romana si inclini alla seconda in italia a differenza di gran parte delle altre nazioni fa rientro un numero maggiore di emigrati che decidono di ristabilirsi in patria dopo aver fatto fortuna a ovest questi uomini soprannominati americani hanno sfruttato il nuovo mondo ma sono affezionati al vecchio esercitano un'influenza incredibilmente vasta che fa leva sull'elasticità mentale e sull'inclinazione artistica nazionali e stimola a mio avviso l'estro e l'ingegno se a questo si aggiunge la consapevolezza che la nuova italia si è fatta da sé con le proprie immense forze e sulla base delle proprie esigenze un miracolo iniffabile che non si può esprimere a parole ma soltanto cogliere nell'aria si comincia a comprendere quale genere di futuro si stia dischiudendo per la più antica e la più giovane delle generazioni delle nazioni con la parsimonia il coraggio la temperanza e un altro ideale si possono raggiungere traguardi lontani come tutti i popoli civilizzati anche quello italiano è sceso in campo per combattere l'incarnazione del male assoluto i boschi che conosce più a fondo di noi inglesi perché un tempo fu loro alleato e per il raggiungimento di questo scopo investe tutte le proprie energie senza sprechi né riserve tuttavia non si fa illusioni quanto alle garanzie di sicurezza che dovranno essere date al termine del conflitto e senza le quali non potrà essere salvaguardata l'esistenza stessa della nazione ed è anche per questo che combatte perché al pari di quello francese è un popolo pragmatico che guarda in faccia la realtà le difficoltà per il singolo e per la società intera sono innumerevoli ma l'italia si fa carico di questo e di altri fardelli con lo stesso spirito di accettazione con il quale affronta gli altolpiani carsici gli aspri monti le nevi instabili e la roccia in fida che impongono fatiche inimmaginabili il suo esercito i monti non si piegano ma l'italia non è da meno tuttavia se uno non bere con i propri occhi come può giudicare in albergo mentre aspettavamo l'arrivo dell'espresso notturno sentimo un ufficiale parlare di certe poesie di dannunzio che avevano letteralmente contribuito a smuovere mari e monti per la guerra in corso e citando dante spiegò un riferimento in esse contenuto un anziano facchino incaricato di trasportare i nostri bagagli su ne chiave ragomitolato su una poltrona presso la veranda quando colse il lungo ritmo musicale del componimento spalancò gli occhi protese il mento dallo sparato della camicia e si mise a sedere come un piccolo falco sopra un trespolo e intento ad ascoltare ogni verso ne seguiva il ritmo con il battito leggero del piede. La guerra nelle montagne, Rudyard Kipling